Sardegro Urbano della Sani Moreno Vosvaghe Audi di Fuscecchio, oggi vi presento la nuova arrivata nel nostro parco vetture usate, si tratta di questa Fiat 500X ed è dell'anno 2015, è 2000 di cilindrata, 140 cavalli, cambio automatico, unico proprietario ed oltre come vi ho detto al cambio automatico è un quattro ruote motrici di questo bel colore rosso, sempre molto bello brillante e infatti la carrozzeria esterna si presenta in un modo veramente eccellente, non ci sono mattature, non ci sono graffi, quindi molto molto bella da vedere e la nostra vettura comprende sensori di parcheggio posteriori, i suoi cerchi in lega da 17 pollici con gomme invernali, metri scuri posteriori che rendano la macchina veramente anche un capellino visivamente sportivo e siamo all'interno della nostra vettura e andiamo a vedere proprio le caratteristiche che abbiamo, intanto pannelli laterali e cruscotto, anche questi belli da vedere, proprio non ci sono graffi, non sono staccati, non ci sono usure, le plastiche risultano molto molto ripeto molto belle anche le parti verniciate sono belle, a livello di componentistica troviamo sulla console centrale l'interruttore del freno a mano elettronico, interruttore per modificare lo stile di guida della nostra vettura sui vari fondi stradali, leva del cambio automatico, presa usb climatizzatore automatico, sul display centrale troviamo, a parte l'autoradio troviamo il suo navigatore, come vi ho detto l'autoradio e troviamo anche il viva voce tramite il bluetooth sul volante invece, cruise control, sulla sinistra per modificare le nostre funzioni del computerino di bordo radio e cose varie, gli interruttori per fare le chiamate o bloccare le chiamate con centralmente il tasto del comando vocale molto comodo i chilometri sono 149.900 passiamo alla tappezzeria interna bella, pulita con questo tessuto misto pelle, ripeto tessuto color grigio scuro la tappezzeria, come il nostro solito, è stata lavata e igienizzata a vapore con questa lavorazione specifica il risultato infatti è l'avere un interno vettura veramente bello, pulito, profumato quindi un'accoglienza quando saliamo all'interno veramente magnifica vano bagagliaio, ampio, con il suo sedile sdoppiato per aumentare il vano di carico e anche questo pulito perché ha avuto la stessa lavorazione della tappezzeria anteriore quindi lavato e igienizzato a vapore sotto il nostro pianalino abbiamo il ruotino di scorta con tutta la sua attrezzatura e adesso anche il vano motore pulito, bello da vedere con tutti i suoi componenti al loro posto, dalle plastiche, tubi in gomma, livelli tutto al loro posto perché le nostre vetture usate prima di essere messe in vendita vengono sottoposte ad un accurato controllo come seguendo una nostra checklist multicontrollo interna e sono praticamente 110 punti da verificare singolarmente affinché la vettura sia a posto e completamente funzionante quindi tutto deve essere nella norma dopodiché ci viene abbinato 12 mesi di garanzia come prescrive la legge con possibilità per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi possibilità anche di pagamenti rateali personalizzati con più soluzioni che vi saranno spiegate naturalmente in sede adesso andiamo a fare un giro di prova su strada adesso siamo all'interno della nostra auto la prima cosa che notiamo è la posizione di guida rialzata quindi da SUV e poi la pulizia dell'interno dell'abitacolo veramente spettacolare molto molto accogliente ok passiamo al discorso tecnico cambio automatico ottimo funzionamento e si vede già dalla partenza quindi partenza molto soffici non ci sono scossoni come si usa dire anche le cambiate risultano veramente fatte in un modo giusto assetto di guida ottimo perché la vettura va veramente dritta su strada volante dritto non ci sono vibrazioni sulle gomme quindi ottima guidabilità scatola di guida precisa senza nessun tipo di gioco e andiamo adesso a sentire anche il lavoro delle nostre sospensioni nella classica strada con le buche ebbene sentiamo sì il loro lavoro ma all'interno abitacolo risulta molto molto silenzioso la vettura è già stata controllata quindi completamente funzionante già pronta per la vendita ed è un pronta consegna se poi abitate lontano quindi in un primo momento impossibilitate a venire ve la possiamo anche presentare in anteprima come? con whatsapp video vi facciamo una telefonata in diretta con ripeto whatsapp video e ve la possiamo spiegare e far vedere proprio in ogni suo particolare quando poi deciderete di venire ve la facciamo naturalmente anche provare su strada che è molto importante passando alla meccanica ripeto il suo 2000 turbodiesel 140 cavalli col cambio automatico e le quattro ruote motrici la vettura risulta molto sicura su strada la sento molto stabile perché le quattro ruote motrici ci sono una sicurezza in più sulla guidabilità stradale quindi contattateci e vi sarà spiegato con più precisione la nostra vettura dopo queste notizie torniamo al nostro punto di partenza per darvi le ultime informazioni a questo punto vi invitiamo a visitare il nostro sito diretto autosani.it dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto troverete naturalmente anche il prezzo seguiteci poi sui social su facebook e instagram al nostro indirizzo Sani Fucetti un grazie per l'attenzione vi aspettiamo naturalmente presso il nostro punto vendita oppure telefonate ai nostri numeri vi sarà comunque risposta a tutte le vostre domande un grazie ancora e come diciamo sempre alla prossima vettura grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti